Eravamo a Hollywood probabilmente alla ricerca dei costumi proprio per giù la testa e uno scrittore americano, molto simpatico, famoso in America perché è un delinquente, è uno che va dentro e fuori dalla galera, però scrive dei film bellissimi, sempre sui delinquenti, molto simpatico, ci aveva conosciuto e a un certo punto ci ha detto venerdì se volete andiamo a casa di Sharon Tate perché è una casa molto ospitale, ci sono sempre delle belle ragazze e noi abbiamo accettato, fa conto che era lunedì, il mercoledì mi ha telefonato il presidente della Transamerica Corporation, quelli che hanno la piramide sul porto di San Francisco, che era anche il padrone della United Artists e mi ha detto ho saputo che sei a Los Angeles, vieni a passare il weekend da noi e allora io decisi di andare a San Francisco, gli dissi a Sergio guarda che io venerdì non ci sono. L'indomani mattina, sabato, venne il presidente della Transamerica, ero lì a letto e arriva lui e mi dice Luciano è successa una cosa tragica, la figlia del mio migliore amico è stata massacrata assieme a Sharon Tate nella villa dai seguaci di Menzo. A me mi è venuto un colpo, ho detto madonna c'era Sergio, dovevo esserci io, allora ho chiamato subito il Beverly Hills a Los Angeles, ho chiamato Sergio, mi ha risposto, ho detto ah Sergio sei vivo? Mi sto cagando sotto, ho visto la news, c'è ben fortuna ieri sera perché non c'eri te, perché io non parlo inglese, non so niente, mi so osservare. Quella famosa sera in cui Sharon Tate fu uccisa, lui doveva andare insieme con delle altre persone a questo party e per una ragione che adesso non ricordo all'ultimo momento ho deciso di non andarci e allora naturalmente con la fierezza che lo distingue disse se fossi stato io probabilmente non sarebbe successo.